Telecamere più efficaci, vita dura per i ladri in stazione, identificato dalla polvere, il giovane che ad agosto rubò 9 bicicletti di giorno. Già in libertà i due giovani romeni arrestati per i furti in centro, infuriati, baristi, è ora di cambiare la legge, dicono. Denuncia per abbandono a due minore, a chi non paga il servizio mensa del figlio, a mogliano genitori in rivolta contro il comune. La replica del sindaco, solo una segnalazione ai servizi sociali, dice combattiamo chi ha i soldi ma non paga. Amanso è scontro frontale tra due auto nella notte, una finisce nel fossato, due feriti trasportati all'ospedale di Oderto. La regione restituisce le deleghe alle province, soddisfazione di Muraro che ringrazia Zaia, ora però chiarezza sulle risorse. Accorpamento delle tre ulsi in un'unica azienda sanitaria provinciale, il dibattito si anima alla parola a sindaci e sindacati. Il distaccamento dei vigili del cuoco di Conegliano compie 10 anni e 20 in città, pensando alla futura fusione con Belluno. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. Dunque quattro ladruncoli pizzicati in poche settimane grazie alle nuove telecamere installate in stazione. Nuove perché più efficaci, permettono filmati più nitidi che consentono il riconoscimento di persone o automobili sospette. È stato identificato anche il 29enne che ad agosto in un solo giorno rubò ben nove biciclette. Vediamo il servizio di apertura. Oggi è molto più difficile commettere dei reati in stazione perché questo sistema di videosoveglianza permette di trovare l'autore in maniera diciamo più efficace. Stazione dei treni presidiata da quasi un centinaio di telecamere che offrono immagini ad alta risoluzione in grado di fornire agli operatori di polizia tratti somatici di individui sospetti e numero di targa di auto da rintracciare. Sono oltre 95 e la resa d'immagine è molto molto migliore rispetto a quella del passato. Soprattutto sono distribuite in maniera capillare un po' in tutta la stazione. Il rodaggio dei primi mesi ha permesso di risolvere già diversi casi come il furto a fine agosto di ben nove biciclette in un giorno dai due parcheggi davanti e dietro la stazione. Denunciato un trentenne trevigiano che le aveva rivendute per 300 euro. In questo caso le telecamere ci sono state di grandissimo aiuto in quanto hanno permesso di inizialmente ricostruire i dati somatici dell'autore e poi di individuarlo grazie al fiuto dei poliziotti che erano all'esterno. È un ragazzo che purtroppo faceva furti per bisogno di denaro legati a un stato di tossicodipendenza e da una dipendenza da gioco. Il giovane che aveva iniziato a rubare dopo essere rimasto senza lavoro ha deciso di curarsi e di entrare in comunità. Ha denunciato per furto un altro trevigiano, un operario cinquantenne, che ha rubato la ruota di una bici. L'ho fatto, ha raccontato, dopo essere stato derubato a mia volta. Pizzicati anche due campani che prima di tornare a casa per le ferie si sono impossessati della valigetta di un pordenonese con dentro pc, tablet e chiavette usb. Il tutto grazie alle immagini degli occhi elettronici. E ora parliamo di altri ladri, quelli che hanno razziato i locali pubblici del centro. Sono stati condannati a due anni ma la pena è stata sospesa e ora sono tornati di nuovo in libertà, infuriati i baristi che invocano una modifica della legge. Indignati i cittadini, amareggiati i baristi, non va giù ai trevigiani che i due giovani romeni arrestati per la razzia di quattro bar tra il centro di Treviso e Silea siano già a piede libero. Condannati a due anni per il colpo a Lanzago, pena sospesa, per un mese avranno solo l'obbligo di firma, sono incensurati e per contestare i furti in centro serviranno ulteriori indagini. E intanto sono usciti di cella delusi i rappresentanti di una categoria che si sente nel mirino. Credo che comunque l'opinione mia rispecchi un pochino quella di tutti quanti i cittadini, ovvero sia una cosa scandalosa, nel senso che comunque per la sicurezza e comunque per il buon vivere civile credo che sia assurdo. Leggendo la notizia siamo rimasti malissimo perché siamo esposti ad ogni pericolo e visto che avevano le prove per tenerli dentro, sono prove anche tangibili credo, quindi era giusto che li tenessero dentro perché in questa maniera ci spongono proprio ai pericoli. Non ci siamo proprio perché altrimenti stiamo qui a lavorare per niente, tu lavori tutto il giorno, dopodiché te li ritrovi, magari ti vengono a rubare il negozio e te li ritrovi a essere fuori il giorno dopo. La consigliera comunale della lista Gentilini Petra De Zanet che lavora al bar di Sant'Artemio ha vissuto sulla propria pelle una rapina da cui dice sta ancora cercando di riprendersi. La notizia della liberazione dei due romeni l'ha mandata su tutte le furie. Il mio commento sarà sicuramente pessimo perché loro intanto hanno, come si dice, la mano libera, continueranno a fare tutto quello che hanno fatto finora, anzi il meglio lo dovremo ancora vedere, ma perché? Perché finché non cambieranno la legge italiana loro hanno il coltello da parte del manico. E ora le immagini del drammatico incidente che si è verificato ieri sera poco dopo le 23 a Mansuet lungo la strada provinciale via Porto Buffolet. A scontrarsi sono stati una Golf e una Chrysler Voyager. Il bilancio è di due feriti, un 45enne del posto che ha avuto la peggio e un quarantenne di San Vito al tagliamento che ha riportato conseguenze più leggere. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, oltre ai carabinieri della compagnia di Conegliano, a cui spetterà ora la ricostruzione della dinamica del sinistro. E ora a Mogliano, polemiche roventi. Il sindaco minaccia denunce per abbandono di minore nei confronti delle famiglie che non pagano la mensa scolastica. I diversi genitori sono ora sul piede di guerra. In questo momento chi non paga rischia di essere segnalato al Tribunale dei minori per abbandono di minore. E questa è una cosa molto grave perché su questi temi di competenza genitoriale gli stessi servizi sociali sono molto attenti a trattare questi temi col Tribunale dei minori. La polemica questa volta è arrivata col postino. Mogliano l'anno scolastico è iniziato col botto. Le lettere ufficiali inviate dal sindaco che minacciano una segnalazione per abbandono di minore alle famiglie che pur non pagando la mensa scolastica lasciano il figlio in refettorio hanno sollevato un polverone. In una fase ancora delicata in cui parecchie famiglie patiscono una situazione economica difficile, ad alcuni quella lettera è apparsa come una minaccia inaccettabile. Sostanzialmente richiede di pagare una rata anticipata per il servizio di mensa di un importo di valore importante perché parliamo di circa 200 euro a bambino, quando prima questa spesa veniva distribuita nel corso dei mesi da parte dei genitori, ma soprattutto con un'indicazione di segnalazione al Tribunale dei minori per quei genitori che non avessero aderito al servizio di mensa. L'ultimatum se non paghi ti denuncio, oltre ad aver scatenato le opposizioni in consiglio comunale, ha irritato più di un genitore tra chi parla di intimidazione e chi si sta già informando dal punto di vista legale sull'effettiva efficacia delle sanzioni prospettate dalla lettera. Questa dunque è la protesta dei genitori, ma andiamo a sentire la replica del sindaco di Mogliano, Carola Arena. Chi può pagare, quindi chi ha le disponibilità economiche, deve pagare un servizio pubblico, come quello appunto della mensa scolastica. Chi invece non ha le possibilità economiche va aiutato, ed è quello che stiamo facendo, punto, a basso i furbetti. Toleranza zero per i furbetti della mensa. Il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, risponde così alle polemiche scoppiate dopo l'invio delle lettere in cui si prospettano conseguenze severe per chi non paga il servizio di mensa scolastica. Ma nel mirino c'è solo una categoria di persone. Famiglie italiane, purtroppo, anche con due stipendi, stanno usufruendo del servizio mensa praticamente sulle spalle, a scapito di tutti noi cittadini. Il comune ha un debito di 30 mila euro non pagati, sostiene il sindaco da una maggioranza schiacciante di famiglie benestanti, per i quali è stato dato avvio al liter di recupero. A chi si lamenta dell'eccessività di un ricorso al Tribunale dei Minori, per abbandono di minore, per chi lascia il figlio in refettorio senza pagare la mensa, il sindaco risponde così. L'abbandono di minore è quando, come dire, il comportamento è reiterato, continua ad essere reiterato nonostante i richiami. Non c'è scritto Tribunale dei Minori, c'è scritto Servizi Sociali, per poter immediatamente intraprendere anche delle azioni nei confronti di queste famiglie che evidentemente concepiscono in maniera deformata un servizio pubblico. E continuiamo a parlare di enti pubblici, la regione restituisce alle province le loro deleghe, soddisfazione del presidente dell'UPI Veneto Leonardo Muraro, secondo cui ai futuri enti di secondo livello si restituisce dignità. Ora però vanno concordate le risorse da mettere a disposizione. I sindacati dei lavoratori che si battono per il loro posto sono però prudenti, restiamo, dicono, con i piedi per terra. Sentiamo Muraro che ringrazia innanzitutto il governatore Zaia. Bisogna ringraziarlo perché ha riconfermato quella grande volontà di mantenere politicamente le autonomie locali, che significa che le province d'area vasta, organismi d'area vasta che fanno pianificazione d'area vasta, continueranno ad esistere. Il primo passaggio di ieri è stato fondamentale. Ovvio abbiamo aperto una nuova strada, un nuovo metodo di confronto che si basa sulla concretezza. Adesso dobbiamo sviluppare il percorso perché le province rimangano con tutte le deleghe assegnate dalla regione alle province stesse, assieme alle deleghe nazionali date dal governo, abbiano però la sussistenza economica per poter fare e svolgere il proprio lavoro. La presentazione di ieri, verbale perché non abbiamo ancora visto il documento, parla di 28,5 milioni di euro per il 2015 per pagare il personale, per il 2016 si parla di 40 milioni. Vogliamo capire però quali sono i capitoli di finanziamento di questi 40 milioni per poter costruire insieme un percorso che dia virtuosità ai servizi e dia la possibilità effettivamente di svolgere queste nostre competenze che abbiamo sempre avuto e abbiamo svolto in economia con molti sacrifici ma soprattutto con grandi risultati. Dal futuro delle province a quello delle ULS perché sull'ipotesi di creazione di un'unica azienda sanitaria provinciale si accende il dibattito sia tra gli amministratori locali che tra i sindacati. Una sola azienda socio-sanitaria per provincia il dibattito si accende. Sindaci diffidenti c'è chi teme che il sociale finisca per ricadere sui comuni e chi più in generale guarda con sfavore alla concentrazione sotto un'unica amministrazione di servizi decentrati non senza fatica nel territorio provinciale. Realtà che nel tempo hanno acquisito una loro identità. Da Montebelluna che insieme a Castelfranco è capofila dell'Uls 8 il sindaco Favero va controcorrente e invita a non dare giudizi affrettati. Credo che le prime reazioni siano la dimostrazione che il nostro è un paese che ha paura delle riforme. Io credo che la cosa più seria sia quella di dialogare con la regione e la conferenza dei sindaci dell'Uls 8 ha chiesto un incontro con i dirigenti regionali dopo aver sentito Zaia perché prima di giudicare bisogna capire e quindi in questo momento è inutile fare lamentazioni, sollevare dubbi o altro. è il momento di capire quando avremo chiaro e per spicco ciò che la regione intende fare, esprimeremo come sindaci la nostra valutazione in scienza e coscienza. Consapevolezza che i tagli sono necessari anche da parte del sindacato con tutte le note a margine del caso. Gli accorpamenti vanno fatti, cioè una capacità di vedere il futuro con grandi investimenti, con grande ricerca, con grande capacità di innovazione tecnologica comporta il fatto che tante Uls e tanti piccoli ospedali non funzionano. Fatta questa premessa la cosa importante è come realizzi questo tipo di obiettivo. A Treviso ritengo che due Uls, grosso modo equivalenti di 450.000 abitanti, rappresentino un elemento importante nell'evoluzione di questo accorpamento. Che i comuni possano però decidere a quale Uls aderire, come quelli al confine con altre province, per la CISL è impensabile. Forse non è il momento in questo caso di fare troppe fantasie, dobbiamo fare le valutazioni sulla base delle cose che ci sono adesso. Le cose che ci sono adesso non ci dicono un cambiamento così radicale. E nel futuro di tutti noi dovrebbe almeno in teoria esserci la pensione. Il dubbio però di arrivarci a percepire quei soldi è legittimo. Vi chiediamo col nostro TG Linea Aperta di questa settimana cosa ne pensate. Mandateci un sms al 340-321-8806 oppure un'email a redazione chiocciolareteveneta.it o continuate a scriverci i vostri commenti alla nostra pagina Facebook. Fine settimana di festa per i vigili del fuoco di Conegliano che festeggiano i dieci anni dall'apertura del distaccamento nella città del Civa. Inevitabile anche l'accenno al prossimo accorpamento del comando di Belluno con Treviso. Più si è vicini alla zona da servire è più efficace il servizio dei vigili del fuoco. Il messaggio per i territori bellunesi è chiaro. L'accorpamento di Belluno con Treviso non cambierà nulla nel servizio dei vigili del fuoco nei territori a nord della marca. Un segnale chiaro a chi parla di frana bellunese o invasione trevigiana delle terre alte. La razionalizzazione passa anche a una diversa gestione generale che permetterà un dialogo maggiore tra distaccamenti come ad esempio Montebelluna con Feltre o Conegliano-Vittorio-Veneto con Belluno. Finora si è sempre gestito tutto solamente sul fronte emergenziale. In futuro si potrà ipotizzare la gestione comune d'area. Quando c'è da intervenire e necessitano risorse che debbono provenire da più parti, abbiamo già lavorato tante volte insieme. D'altronde il nostro dispositivo è un dispositivo modulare che si compone in funzione delle necessità. Un tema che coinvolge anche il distaccamento di Conegliano che questo fine settimana festeggia i 10 anni di operatività. 42 uomini, 20 comuni d'area con Vittorio-Veneto e i volontari del distaccamento di Gaiarine formano una rete di sicurezza e prevenzione a tutela dei cittadini. Operatività, formazione e prevenzione che per tre giorni da venerdì saranno raccontate con incontri ma soprattutto visite guidate all'interno di questa caserma aperta a tutti i cittadini che pochi sanno essere soprannominata all'Accademia. Questo distaccamento che io ci lavoro da 30 anni è soprannominato anche all'Accademia perché i vecchi che ci hanno preceduto ci hanno sempre insegnato in maniera importante questo lavoro e che noi giovani, giovani, io ormai non più, quelli che mi stanno alle spalle adesso cercano di continuare a portare avanti nel miglior di modi. Auto e profughi, le furbate della Merkel. Il titolo di Focus in onda questa sera alle 21.05. Berlino sapeva dello scandalo sulle emissioni della Volkswagen. L'inchiesta ora si allarga all'Italia. Intanto sul fronte profughi Alfano attacca i sindaci che dicono no. In studio con Ferdinando Avarino, Roberto Marcato, Giovanni Tonella, Simone Venturini, Daniele Stival, Morena Martini e Angelo Squizzato. È tutto anche per stasera. TG Treviso termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Naturalmente vi auguro al solito una buona serata con i nostri programmi. Arrivederci. TG Treviso termina. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.